Rendere merito a chi ogni giorno combatte in prima linea per la legalità, ma anche uno sguardo al futuro per rafforzare ulteriormente il fronte sicurezza. A Salerno Santa Messa in occasione della festa della Polizia ufficiata dall'Arcivescovo Metropolita Moretti con il cappellano provinciale della Polizia di Stato Don Giuseppe Greco, presenti tutte le autorità civili e militari ed il personale della Polizia di Stato. Al termine della cerimonia liturgica presso la Sala San Tommaso nel Chiostro della Cattedrale sono stati consegnati riconoscimenti al personale della Polizia di Stato distintosi in attività di servizio, a ricevere un encomio anche massimo caso del commissariato di nocera inferiore premiato per la dedizione nell'attività investigativa. Alle spalle ha anni di impegno nella lotta alla criminalità, anni in cui con tenacia ha combattuto contro gli illeciti e contro lo spaccio di droga ed il suo impegno continua a nocera. Agli ordini della dottoressa Giuseppina Sessa, proprio nella città dell'Agro, si continua a far sentire la forte presenza dello Stato. Inevitabili le riflessioni sul tema della sicurezza. A Salerno, da parte del questore Pasquale Enrico, del prefetto Salvatore Malfi, a margine della solenne celebrazione. La festa della Polizia, in primo luogo, del grande gioia e del grande onore di continuare a celebrare una ricorrenza straordinariamente importante per le nostre donne e i nostri uomini che assicurano la sicurezza di tutti i cittadini. Ieri abbiamo parlato di un problema che è già avuto un buon avvio, perché proprio grazie allo straordinario lavoro che fanno la Polizia di Stato e anche le forze di Polizia sul lungomare è stato più semplice parlarne. Ieri abbiamo deciso, assieme al Sindaco, di rendere stabile questo servizio congiunto tra forze dello Stato e Polizia locale, perché vi sono delle chiare competenze istituzionali, ma quando si tratta della sicurezza dei cittadini e di luoghi simboli come quelli e altri punti della città, è importante che noi assieme, al di fuori delle divise che abbiamo addosso, lavoriamo congiuntamente per rendere sicuri e dare non solo una sensazione percepita, ma anche una sensazione reale di sicurezza. In più avremmo anche accarezzato un'idea, dopo l'avendo che si è verificato di quella rapina al tabaccaio e mi sia consentito di fare di noi complimenti alla Polizia di Stato e in altre occasioni all'arma dei carabinieri hanno immediatamente, negli ultimi casi, arrestato le persone. Vorremmo fare un progetto con cui le telecamere, prima ne stava parlando col procuratore per confrontarci anche sulla cosa e la vediamo ovviamente in maniera congiunta. potremmo ampliare la capacità delle nostre telecamere perché i nostri concittadini non hanno nessun problema ad essere ripresi, i ladri sì. E quindi creare un sistema affinché l'asticella della sicurezza di Salerno salga sempre di più. La nostra sfida è quella di lavorare affinché questa città che è già straordinariamente sicura diventa un simbolo di sicurezza. Ovviamente nulla è semplice, c'è da aspettarsi successi ed insuccessi, però questo è un percorso continuativo che faremo tutti assieme e sono certo anche insieme a voi perché la comunicazione istituzionale crea sicurezza.